Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Ni4SpinNoLimits e come potete vedere sto sperimentando, nel frattempo vi dico anche alcune cosette riguardanti... vabbè avete capito, sto sperimentando un nuovo metodo di registrazione che mi permette... Mobizen adesso, tra l'altro i miei occhiali sono molto belli, mi piacciono vero? Bene, sto sperimentando un nuovo metodo di registrazione che per Mobizen adesso mi permette pure di registrare me stesso, quindi sto registrando il gioco e nel frattempo me stesso, quindi adesso lo esperimento, vediamo come viene, Bene, se viene bene, io direi che il PC non mi serve più, scusate per i miei occhiali che fanno schifo, devo proprio cambiare, mi piacciono i miei occhiali. Bene, comunque, allora, oggi passeremo a dire le cosette che praticamente il BMW non sono riuscito a prenderlo e, boh, mi dispiace che non sono riuscito a prenderlo e, boh, purtroppo ci ho provato, ma le gare erano veramente, ma veramente toste, scusate per i miei occhiali di merda, mamma... E, boh, che dire, io spero che sto video, so che è un po' corto, più che altro è... Sto sperimentando un nuovo metodo di registrazione in più, cioè è una bella cosa questa, quindi mi permette pure di registrare me stesso, io, devo essere onesto, registro anche bene. Da ora in poi, raga, se devo fare un video, lo posso fare in qualsiasi momento perché posso fare tutto tramite qua, quindi è perfetta come cosa, per me viene a pennello proprio, perché adesso da ora in poi i video con la webcam li faccio sempre, non ci sarà un momento che non lo farò. E si vede tra l'altro anche bene, scusate sto movimento, ecco questo, cercherò di migliorare, però ditemi come mi è venuto sto video, a parte gli occhiali storti, quelli non li dovete cagare, ok? Che sono proprio degli occhiali di merda, devo cambiarli, lo so. Bene, spero che sto video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, e scusate se non sono riuscito a prendere il BMW, io ci ho provato in tutti i modi, però... Cazzo. Alla prossima, belli. Ciao ciao.